Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniele Ruscigno e sono sindaco del Comune di Monteveglio, in provincia di Bologna. Allora, lo statuto del nuovo comune verrà approvato da quello che è il nuovo Consiglio Comunale che sarà eletto nel giugno del 2014. Naturalmente noi abbiamo intenzione di costituire tutta una fase preparatoria che avverrà, nel caso in cui il referendum avesse esito positivo, nel corso del 2013. La nostra intenzione è quella di utilizzare tutto uno strumento, un meccanismo di partecipazione per coinvolgere sia naturalmente tutti gli amministratori eletti nei consigli comunali, ma anche la cittadinanza e tutti quelli interessati a questo processo, rispetto appunto alla costruzione dei principi del nuovo statuto del Comune Unico. Questo peraltro noi l'abbiamo un po' iniziato con una serie di lavori che abbiamo fatto nei tavoli, nei gruppi di lavoro che ci sono stati nel corso dell'anno scorso e alcune indicazioni sono già uscite abbastanza chiare. E' chiaro che una volta esito positivo del referendum partirà questa nuova fase che durerà tutto il corso del 2013 appunto per la costruzione poi di quella che sarà la bozza dello statuto da poi porre in approvazione con gli organi nuovi eletti nel Consiglio del Comune Unico. I cittadini saranno coinvolti anche perché all'interno di questi meccanismi di partecipazione noi vorremmo utilizzare anche quelli che sono gli strumenti innovativi che mette a disposizione la Regione. La Regione attraverso la legge 3 sulla partecipazione mette a disposizione sia i fondi sia le risorse umane per creare dei percorsi partecipati anche validati a livello diciamo regionale e internazionale. Quindi noi anche attraverso questo meccanismo della legge 3 vorremmo costruire il nuovo statuto del Comune. Nel percorso legislativo per le fusioni dei Comuni è previsto per obbligo per norma un referendum. Questo referendum ha la caratteristica di essere un referendum consultivo anche perché servirà alla Regione titolare a azione dei Comuni. Questo tipo di referendum anche se è consultivo è di straordinaria importanza in quanto la legge prevede che la Regione andrà a deliberare in merito al risultato del referendum sia nella sua valenza complessiva sia in quella di ogni suo singolo territorio. Questo è quello che dice la legge. Quindi capite bene che anche se è consultivo il risultato del referendum sarà determinante nella scelta dell'avvio, della conclusione del processo di unificazione dei Comuni e quindi nella deliberazione della Regione. Cosa succede se il risultato è negativo? Beh è molto semplice, se il risultato è completamente negativo è molto difficile e vi posso dire che è sostanzialmente improbabile che la Regione proceda con il suo percorso. Se invece uno dei Comuni ad esempio dovesse avere un esito negativo, beh io credo che la Regione farà una valutazione rispetto a quello che è il risultato complessivo tenendo però presente che in caso di risultato molto negativo di un singolo territorio io credo che comunque sarà difficile che la Regione potrà andare avanti anche perché la Regione parla espressamente anche di valutazione dei risultati anche in ogni singolo territorio. Quindi sarà una valutazione che metterà insieme sia il risultato complessivo sia anche l'affluenza delle persone perché è molto importante anche se non è previsto quorum però è molto importante il numero di affluenza e il numero di persone che verranno a votare al referendum e quindi con tutte queste variabili in caso di un risultato ambiguo, con tutte queste variabili, con la valutazione di queste variabili la Regione poi prenderà la sua decisione. Come si inserisce il nuovo Comune nella città metropolitana che nascerà il primo gennaio del 2014? Beh anche questa è una bella domanda nel senso che noi crediamo che la struttura per come sarà strutturata la nuova città metropolitana, la fusione, quindi il Comune unico derivante della fusione della Valle Samoggia avrà le spalle larghe anche per occuparsi di quelle che saranno delle materie legate ai Comuni per quanto riguarda la loro gestione. E quindi il nuovo Comune naturalmente si pone diciamo ai posti di partenza come una realtà molto più forte per gestire quelle che sono anche le sfide metropolitane del futuro. Per quanto riguarda quelli che sono i nuovi servizi, le nuove potenzialità del nuovo Comune noi abbiamo inserito tra queste anche la possibilità di avere un istituto superiore sul nostro territorio. Sono tanti anni che si parla di questa opportunità ma noi come somma di piccoli Comuni non abbiamo mai avuto la forza politica e decisionale tale per avere questa possibilità sul nostro territorio. Noi abbiamo fatto una serie di incontri con gli enti regionali e provinciali e un Comune da 30.000 abitanti ovviamente potrebbe avere più possibilità di avere finalmente anche sul nostro territorio un istituto superiore. Questo sarebbe veramente importante perché guardate da quando andavo io a scuola adesso sono passati 15 anni, 20 anni da quando andavo io agli superiori sostanzialmente non è cambiato nulla. I ragazzi nostri si alzano sempre dalle 6 alle 6 e un quarto del mattino prendono la corriera per andare all'istituto di Bologna o a quello di Modena, Vignola. Per noi sarebbe un'importante innovazione perché accorcerebbe di molto quelli che sono anche i tempi per frequentare l'istituto superiore e darebbe anche l'opportunità di specializzarsi su alcune tematiche più inerenti rispetto ai lavori che ci sono, alle possibilità lavorative che ci sono sul nostro territorio. Quindi il nuovo Comune potrebbe darci la possibilità e noi abbiamo riservato anche tra l'altro un pezzettino di terra nel nuovo piano strutturale comunale un pezzettino di terra pubblico appunto per realizzare un nuovo istituto superiore che noi adesso abbiamo ipotizzato possa essere a Bazzano e quindi insomma noi ci siamo messi avanti quindi se ci sarà il Comune unico naturalmente questo sarà uno degli obiettivi su cui noi lavoreremo. Per quanto riguarda i temi invece di quelli che sono diciamo la parte iniziale relativa alla documentazione, al cambio di documentazione qua facciamo un po' di chiarezza nel senso che la parte di toponomastica quindi la viabilità non cambia nulla quindi le vie rimangono esattamente quelle se ci sono delle vie uguali rimangono esattamente quelle perché saranno identificate dal CAP attuale e dalla municipalità perché ricordiamo il municipio non scompare cioè ci sarà il nuovo Comune della Valle Samoggia ma ogni singola municipalità rimarrà sia fisicamente come porta d'accesso dei servizi della popolazione ma anche formalmente come località di riferimento rispetto a quelle che sono tutta la parte della toponomastica quindi per quanto riguarda la viabilità, lo stradario rimane tutto esattamente com'è i documenti, vi faccio un paio di esempi la carta d'identità, la patente, la motorizzazione vi manderà a casa l'adesivo per l'aggiornamento di quello che è il nuovo Comune Unico quindi arriverà a casa l'adesivo da attaccare sopra la patente per quanto riguarda la carta d'entità invece arriverà una comunicazione a casa di tutti i cittadini e gratuitamente l'amministrazione la pubblica amministrazione vi fornirà la nuova carta d'entità che noi pensiamo già di fornire quella elettronica quindi il nuovo formato di carta d'entità elettronica non più quella tradizionale anche perché questa ci consentirà di aprirci a tutto il mondo dei servizi online per quanto riguarda tutto il resto del mondo della documentazione stiamo sviluppando alcuni accordi con le associazioni di notai e la Camera di Commercio anche per agevolare il passaggio della documentazione delle aziende e delle imprese che naturalmente non dovranno avere dei costi aggiuntivi rispetto a quello che sono diciamo il passaggio di questa documentazione e che quindi ci accoleremo noi come pubblica amministrazione ecco i passaporti invece è una questione che stiamo discutendo con la questura questa è una cosa un po' più delicata anche perché non tutti hanno i passaporti e quindi è una questione tra virgolette un po' più di nicchia ma anche qua stiamo avviando una profica collaborazione con la questura e la prefettura sempre in ordine per minimizzare quello che è l'impatto del cambio dei documenti per la cittadinanza La domanda sul patto è una domanda che il patto di stabilità per noi è il nostro incubo noi attualmente stiamo accantonando dei fondi presso le nostre tesorerie che tra l'altro non sono più neanche le nostre tesorerie ma a Roma appena superiamo una certa soglia subito se le prende e le porta nella tesoreria romana e quindi non le abbiamo più neanche noi disponibili ma questo accumulo di risorse significa che noi annualmente chiediamo più risorse alla popolazione nel nostro territorio rispetto a quelle che spendiamo in servizi per la popolazione vi faccio un esempio Monteveglio quest'anno ha un obiettivo di patto di 630.000 euro ovvero sia io devo incassare 630.000 euro in più rispetto a quelli che spendo e tenerli fermi in banca ovviamente questa è una cosa che sta strozzando completamente ogni forma di investimento ogni forma di possibilità di garantire dei servizi aggiuntivi rispetto a quelle che sono le richieste che stanno aumentando in questo periodo quindi il nuovo comune non avendo più la possibilità non avendo più l'obbligo di avere il patto di stabilità perlomeno nei primi due anni tra l'altro c'è un emendamento al governo che prevede di spostare questo limite all'intero primo mandato amministrativo e per noi sarebbe molto importante ci consentirà di spendere tutte le risorse tutti i soldi accantonati in banca in questi anni e per tutti i cinque comuni della Vassa Moggia per la verità per i tre che sono sotto il patto di stabilità che per adesso sono Bazzano, Monteveglia e Crespellano Savigna e Castello di Serravalle entreranno in patto di stabilità nel 2013 quindi accantoneranno abbastanza poco ma nel 2014 la nostra stima è avere 5-6 milioni di euro da spendere fermi, bloccati dal patto di stabilità e quindi da investire in servizi, infrastrutture e azioni pubbliche da mettere in campo appunto nel 2014 naturalmente uno dei principali vantaggi del Comune Unico sarà quello di semplificare la pubblica amministrazione ridurre la burocrazia e quindi avere la possibilità di utilizzare meglio le risorse che ci vengono date dalla cittadinanza in particolare noi abbiamo stimato a regime che la fusione farà risparmiare circa il 10% del costo della macchina amministrativa locale parliamo pensate di circa 3-2 milioni e mezzo 3 all'anno strutturali quindi questo significa un risparmio molto importante di risorse di burocrazia, di minor costi della politica di minore gestione di servizi esterni quindi insomma tutta una serie di migliorie che ci consentiranno naturalmente di avere un bel po' più di risorse da investire invece nelle cose che poi contano che sono i servizi alla popolazione Saranno investiti nei servizi tutti questi fondi? o in che cosa? C'è un programma di sblocco da una parte e di rinvestimento da qualche parte? Sì, allora i fondi naturalmente prioritariamente verranno dati ai servizi a quelle che sono le opere di investimento pubbliche che attualmente noi sono bloccate e che non riusciamo a fare ma la cosa principale saranno appunto i servizi guardate noi abbiamo avuto una richiesta enorme rispetto maggiore rispetto al passato di quelli che sono i servizi delle famiglie in difficoltà il sostegno all'affitto il sostegno alle fasce debole della popolazione la possibilità di abbassare quelle che sono le rette di accesso alla scuola e poi la cosa più importante abbassare la pressione fiscale noi sappiamo benissimo che con l'ultima ICI l'ultima versione dell'ICI che poi non è un ICI perché alla fine è un'imposta statale di fatto che è l'IMU noi abbiamo appesantito ancora di più quella che è la pressione fiscale alla nostra popolazione, alla nostra comunità ma attualmente noi non avevamo altri mezzi per mantenere quelli che sono i servizi attualmente garantiti da parte delle nostre amministrazioni in futuro il nuovo comune generando dei risparmi una parte di questo risparmio si potrà sicuramente investire anche nella riduzione della pressione fiscale Comunità montane, unioni e fusione dei comuni il legame è molto stretto tra queste tre entità e io le vedo come un percorso che parte dal fidanzamento e arriva al matrimonio nel senso che noi è circa 15 anni, 20 anni prima con la comunità montana poi con l'unione dei comuni che i nostri comuni della Valle Samoggio stanno lavorando insieme abbiamo già un certo numero di servizi che vengono regati insieme molti addirittura la popolazione non sa neanche che sono gestiti dall'unione dei comuni e non più dal comune anche perché lo sportello è rimasto locale presso il comune quindi la gente non sa da dove viene questo tipo di servizio ma molti di questi servizi sono già gestiti in forma associata quindi l'evoluzione che noi abbiamo avuto nel nostro territorio ci ha consentito di arrivare nel 2012 a proporre il comune unico quindi la fusione dei comuni che è il punto più alto di livello associato che i comuni a cui possono aspirare ed è anche il livello più alto che consente i maggiori risparmi e i maggiori livelli di integrazione quindi il nostro percorso credo che sia un percorso virtuoso che tra l'altro era assegnato anche quando è nata la legge del 96 sull'unione dei comuni pensate che nel 96 la legge prevedeva un periodo massimo di fidanzamento tra virgolette in unione dei comuni di 10 anni e poi l'obbligo di fusione dei comuni quindi le unioni sono nate come embrione per arrivare a fare i comuni unici quindi a raggrupparsi a raggruppare territorialmente a semplificare quello che è la struttura degli enti territoriali sul territorio quindi noi da questo punto di vista abbiamo colto in pieno quelli che erano tutti i dettami di questa nuova legge dell'unione del 96 che poi peraltro subito dopo è stata modificata perché poneva degli ostacoli perché molti avevano paura di partire subito con l'idea di arrivare a fare il comune unico ma quindi noi abbiamo fatto tutto il percorso quindi comunità montana unione, comune unico come fine diciamo come arrivo punto di arrivo di una gestione insieme di questi 20 anni naturalmente l'unione dei comuni non ci sarà più verrà superata dal comune unico che ne integrerà tutte le funzioni quelli che saranno gli investimenti dei giovani è sicuramente la parte più stimolante e la parte più interessante anche di quello che è il nostro progetto perché ovviamente non vuole essere semplicemente un processo di riorganizzazione amministrativa anzi tutt'altro ma vuole essere inteso proprio come un progetto per dare delle nuove opportunità al nostro territorio una di queste opportunità naturalmente è quella di poter dare una marcia in più anche a quello che è il tessuto più giovane della nostra comunità e quindi io per rispondere alla domanda quale opportunità per i giovani rispetto al comune unico io citerei tre grandi tre macro argomenti il primo è quello più importante quello più delicato che è quello del mondo del lavoro sappiamo benissimo che la disoccupazione giovanile in Italia è molto elevata purtroppo anche sul nostro territorio si sta facendo sentire molto forte questo tipo di problematica e quindi due progetti che noi potremo fare con il nuovo comune il primo è il cosiddetto incubatore di impresa che cos'è un incubatore di impresa noi avremo la possibilità di riutilizzare dei locali dei municipi che non conteranno più i servizi burocratici che verranno semplificati quindi avremo degli spazi che potremo destinare a quelle che sono le nuove aziende nuove imprese che i giovani vorranno realizzare e quindi per un periodo da due a cinque anni potremo dare gratuitamente dei locali dove fare attecchire quelle che sono le nuove imprese le nuove start up sul nostro territorio la seconda idea è quella di fare dei bandi annuali dove mettere a disposizione dei fondi rispetto ad alcune tematiche da dare da destinare a fondo perduto a quell'impresa che avrà l'idea più innovativa e questa impresa che io definisco impresa responsabilità collettiva avrà l'unico obbligo di rendicontare per i primi cinque anni di attività di questa impresa il proprio bilancio in modo tale da dimostrare alla cittadinanza quello che sta facendo e come sta utilizzando i fondi che il pubblico gli ha dato in alcune parti d'Italia questo è stato un progetto molto interessante e ha dato la possibilità di far nascere alcune start up di successo quindi queste sono due cose che il nuovo comune unico potrà dare sono due opportunità che il nuovo comune unico potrà dare ai giovani gli altri due filoni che naturalmente cito in sintesi sono in primis quello che è il mondo tecnologico ovvero sia noi vogliamo dare la possibilità di accesso alla rete gratuito soprattutto non solo ai giovani ma a tutta la popolazione crediamo che il digital divide non inteso come mero vicenda tecnologica ma proprio anche come possibilità di accesso al nuovo strumento informativo sia molto penalizzante per i territori che naturalmente non hanno le stesse possibilità di altri più infrastrutturati quindi una grande dorsale internet gratuita con dei punti degli hotspot gratuiti d'accesso su tutto il nostro territorio liberamente accessibile dalla cittadinanza della Valle Samoggia l'ultima cosa che voglio citare sempre perché è di interessi giovani tutto il mondo dello sport noi abbiamo intenzione di creare una grande spolisportiva federata che possa mettere insieme quelli che sono tutti gli impianti sportivi sappia potenziarne quelli che sono gli impianti attuali sappia creare anche dei poli innovativi importanti per svolgere attività agonistiche e anche attività che attualmente non esistono sul nostro territorio cito ad esempio quello che è il progetto della piscina che verrà realizzata a Crespellano e che ovviamente insomma il nuovo comune unico avrà ancora maggiore forza nella realizzazione di questo progetto di questo progetto